Eccoci e bentornati sul mio canale! Call of Duty Ghost, partita multiplayer, uccisione confermata! Allora, è da un po' che non utilizzavo una specialità che mi avete sempre consigliato voi nei commenti e adesso la andiamo subito a riprovare. Da un bel po' che non lo utilizzavo ed è centro perfetto. E poi vi dico la mia classe. Vai, muori, primo sangue! Andiamo. Andiamo, eccolo! Oh, dove va questo? Eccolo, già funzionata la... Uh, me l'ha ucciso lui, grande. Un 2-0 subito per iniziare. Gli altri stanno facendo il giro dall'altra parte. Sì. Aspettate. Passiamo. Eccolo, eccolo. Ucciso te? Ok, bravo. Andiamo a prendere la piastrina. Così ce ne andiamo sul tre. Tre pari. Ok, non male. Andiamo. Andiamo. Oh! E vabbè. E va bene. Stava correndo. Non so come cacchio abbia fatto a fermarsi e a spararmi. Tante volte non lo riesco proprio a capire come cacchio facciano. Che con tutto che anch'io c'ho. Prontezza. Mio. Oh, sto per centro perfetto. Però funziona anche su... Sulle prime uccisioni. Io pensavo quando tipo... Andava! E vabbè. S'andava in serie. Allora, centro perfetto. Praticamente. Aumenta la probabilità dei danni inflitti. Ok, muori. Alle nostre uccisi... Dove cacchio? No, perché è sparita quella cacchio di piastrina? Ok. Ok. La gente che abbandona le partite. Chi è? Chi è là? Chi è che ha ucciso questo qua? Aspetta. Aspetta che sta qua. Aspetta che sta qua. Mo te va a due acchiappa. Vieni da me. Vieni da me. Eccolo! Ora me la paghi. E che cacchio. E quando ce vo, ce vo. Mamma mia. Ok. Un 5-2 non male. Ora, se riuscissimo ad andare in serie... Vorrei sinceramente... Fare un po' di danni. perché questa cacchio di mappa Prison Brick che è una delle più belle. Una di quelle che mi piace di più. Ma tutti qua stanno. Aspetta, aspetta. Dietro, dietro. Cacchio sta. Ah, l'ho ucciso. Grande. Oh, no! Mira del cacchio. Amante c'hai una mira del cavolo. Mannaggia la miseria. Quando sbaglio. Sto uccisioni facili. Mi è proprio... Aspetta. Tu cacchio è andato questo? Dove sei? Iiii! Vabbè, niente. Non c'è sta niente da fare, ragazzi. Oggi non va. La mira non va, ragazzi. La mira non va. Due giorni che non ci gioco e la mira... E muori! Porco cane! Oh! 6-4. 7 confermate. Qua? C'è nessuno? C'è nessuno? Poi, adesso vediamo se più tardi o domani, anche perché domani comincerò a fare serie su Call of Duty Advanced Warfare, sia per quanto riguarda la campagna, sia per quanto riguarda il multiplayer. Volevo proporvi, adesso speriamo che riuscirò a fare una partita decente. Adesso poi, quando andrò a riregistrare... E muori! Nuovamente. Aspettate. Oh! Mamma mia! Che uccisione! Vieni qua! Vieni qua! Grande centro perfetto! Grande centro perfetto! Piazza gli MS e scappiamo. Dobbiamo riusci a prendere sta torretta, eh. Dobbiamo andare in serie. 9-4 e sono diventato primo. Cosa molto buona. Ho visto qualcuno là, ragazzi. Facciamo il giro largo. Vieni qua, mio! Vai! 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 Mamma mia! Tripla! Tripla! Attenzione! Quadropla! E ha ind! E ha ind! E andiamo! E andiamo! La torretta qua? La mettiamo qua? No, aspetta. Mettemola da qua, va. Aspetta. Andiamo da qua. No, ci hanno rotto l'IMS, cavolo. Mannaggia. No, vi stavo dicendo che voglio proporvi un video. Oh, in serie da 10 sto. Un video col maniac o col juggernaut. Ora vediamo quale viene meglio. Allora. Aspetta, ho visto uno laggiù. Andiamo il vepre. Mettiamo la torretta qua, così almeno abbiamo le spalle. Oh, chi è che l'ha ucciso? Oh! Doppio! Doppio col vepre! Sto cacchio! Vepre! Con mirino reddotte non mi sembra affatto male, ragazzi. Aspetta. Aspettate che vedo puntini rozzi in altra torretta! Mamma mia! Ucciti 15... In una serie da 15 siamo, ragazzi. Oh, qua. Scherzando e ritendo forse ci scappa una gemmo. Eh, vabbè. Tanto morirò perché, come vedete, io me ne vado proprio in giro. Quindi, nel senso, no... Fra poco moriremo a mappa. Abbiamo dato una... Oh, mamma mia! Ancora un altro! Un altro Aind! D'assalto! Lanciamolo! 21-4. La partita sta cominciando a decullare. Oh, oh, oh! E vabbè, ecco. Ovviamente c'è sempre qualcuno che non capisco come cacchio abbia fatto a rinascere là. Che mi ha ammazzato alle spalle. Stava in una serie da 16, eh. Peccato perché sta andando molto bene. Ma tanto L'Aind adesso sventrerà tutti quanti. Aspetta, che è qua? Oh, ancora! Altra botta! DMS! Le torrette non stanno facendo un cacchio con tutto che l'ho messe ad incazzolo l'un con l'altro. DMS... Oh, oh, oh! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Con la torretta! Con l'IMS! E io che gli sparavo! Quello non è morto! E... È morto non si sa dopo quanto tempo, ma soprattutto mi ha ammazzato! Dai, qualcosa di assurdo, ragazzi. Dai, ma che stiamo a giocare? Ma che stiamo a giocare? Poi dici, le serie non vanno bene, no... Non riesci a fare le cose... Aspetta, sta uno là. Oh, oh! Eh! Oh, sì! Sì! Va bene, va! Dai, dai! Non è possibile! Non è possibile! Cacchio, mannaggia! Ho stato zompato sul montarozzo! No, no! Naggia, ho sentito gli spari in cuffia, non ho fatto tempo a girare! Mamma, mannaggia la miseriaccia! Sto a morire più volte di... De fila... Porca miseria, dovrei stare più tranquillo! Ma tante... Tante morti... Mi accadono proprio perché... Vado troppo allo sbaraglio! Mi piace troppo... Esci da quel montarozzo! Porcaccia la tua miseria! 53-28! L'abbiamo quasi doppiato, ragazzi! E vabbè... Questo fermo qua e ovviamente mi ammazza a me che passo lì davanti! Tanto col tracciante, soprattutto! Sta andando anche via la voce! Perché... Ma che avrò fatto? Tipo 3-4... 3-4... Chi è che l'ha ucciso questo? Oh! Oh! E vabbè! Niente! Non c'è san cacchio da fare! Ancora quello... Alla... Alla... Su quel cacchio di montarozzo! Non c'è san cavolo da fare! Quando cominciano a camperare come Porci! Non c'è niente da fare! Comincia a morire... Senza se... Senza... Ma aspetta che c'è sta quello là che mi ha ammazzato prima! Che da... Oh! Annaggia! E mori! Ritorno! E che cacchio! Eh! N'è possibile! Quando si mettono così veramente mi fanno via... I 5 minuti! Spacchere! Proprio il joystick! Tutto che mi piace ragazzi! Ma tante volte lo spacchere! Allora qua fermiamoci un attimo perché andrì stanno quelli sopra la... Il montarozzo! Piano ragazzi! Piano! Aspetta! Piano! Possiamo andare! Andiamo! Andiamo! Piano! Spendi la voce! Ok! 61-34! Attenzione alla torretta alle spalle! Attenzione! 63! Dai ragazzi! Questa è vinta proprio alla grande! Peccato! E ne qua! Oh! Migrazione del Lost! Attenzione! A un punto dalla vittoria va via Lost! Che penso sia... Era nemico! 63-34! Con questa faccio 64! E vediamo un po'... Piano! Piano! Finita! Oh! Bella vittoria ragazzi! Spero che il video sia stato di vostro gradimento con la specialità Centro Perfetto! E ci vediamo al prossimo video!